News di ultimora, e questa è davvero straziante, amici. Giulio Longari, noto a tutti come il nipote della regina della Domenica Italiana, Mara Venier, ha reso un toccante tributo al defunto marito di sua madre, Pierfrancesco Forleo, tramite Instagram. In una potente retrospettiva fotografica, Giulio ci ha portato indietro nel tempo, a circa 15 anni fa. Un momento congelato nel tempo, un giovane Giulio, di soli 4 o 5 anni, abbraccia calorosamente Pierfrancesco in un'immagine piena di affetto, condivisa nelle sue Instagram stories. Sì, amici, così è come Giulio ha deciso di onorare il ricordo di Capi, come lui chiamava affettuosamente Pierfrancesco. Ma c'è di più, anche la stessa Mara Venier ha ricondiviso la dolce immagine tra le sue storie. Una mossa che non ci sorprende, dato l'immenso amore che nutriva per Pierfrancesco, il quale era non solo il genero, ma un vero e proprio membro della famiglia. Le parole di Mara, dopo la diffusione della triste notizia, sono state un vero pugno allo stomaco. Pier, sei stato un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia, e io ti ho voluto bene come un figlio. Parole vere e toccanti. La perdita di Pierfrancesco Forleo, avvenuta la notte dell'8 giugno, ha lasciato un vuoto immenso. Le cause del decesso rimangono, per ora, avvolte nel mistero. Siamo con voi in questo momento di dolore, famiglia Longari Venier.